Siamo a Castel San Giorgio dove questa mattina nella frazione Fimiana, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Longanella ha inaugurato una piazza in questa storica e importante contrada del comune del Basso Nocerino. Abbiamo ai nostri microfoni Antonio Fasolino, ex amministratore delegato di San Giorgio Servizi. Cosa significa l'inaugurazione di questa piazzetta a Fimiana di Castel San Giorgio? Buongiorno, questa inaugurazione registra il completamento di un'opera molto sentita dai cittadini di Fimiani e soprattutto degli anziani. Infatti questo è un centro polivalente per anziani. L'occasione dell'inaugurazione è data dal completamento dei lavori, dall'asfalto che è stato completato e dalla predisposizione per i campi di bocce. Quello che vogliamo dire è che finalmente nelle frazioni si riesce anche a pensare, oltre che alla piccola età, anche alla terza età. E' una frazione dove c'è stata una grossa richiesta da questo punto di vista e alla fine di un percorso durato anni siamo finalmente giunti al completamento. Dall'opposizione sono piovute critiche, secondo cui avete inaugurato questa struttura pubblica con soldi pubblici alla vigilia del voto per le amministrative di domenica prossima. Non è un'opera di cui non si conosceva. E' uno spot elettorale. Ma ogni giorno può essere uno spot elettorale. Quindi le campagne elettorali e tutto il nostro impegno è quotidiano. Quindi un impegno quotidiano può portare anche a queste manifestazioni di consenso da parte dei cittadini che vengono premiati circa le loro richieste e circa le loro esigenze. Non è questione di spot. Noi lavoriamo quotidianamente, facciamo spot tutti i giorni. Ma a proposito di spot, sempre l'opposizione sostiene che nei prossimi giorni sono previste altre inaugurazioni. Vogliamo dire e far sapere ai teri spettatori quali? Fra due giorni a Santa Croce va a completamento il lavoro di predisposizione di una piazzetta dedicata ai bambini perché sono state già predisposte delle giostrine per bambini e questo spazio diventerà anche il luogo in cui l'associazione di Santa Croce potrà operare le proprie iniziative compresa la sagra che fanno nel mese di giugno. Quindi una frazione molto attiva? Certamente. Tutte le nostre frazioni hanno un'associazione fatta da cittadini che liberamente si aggregano in virtù del fatto che in queste frazioni ci sono molte cose da fare e ci sono molte persone da coinvolgere e da recuperare in queste iniziative. A Santa Croce c'è stato un lavoro straordinario di questa associazione che ha investito anche economicamente propri fondi oltre a quelli che il Comune ha messo a disposizione per completare i lavori e questo è il percorso che noi intendiamo rivolgere in tutte le frazioni quando si hanno rapporti con i cittadini associati tra di loro in queste iniziative. Grazie. Ai nostri microfoni il Vice Sindaco di Cassè San Giorgio, il Dottor Giuseppe Alfano. Cosa significa l'inaugurazione per la frazione Fimiani di questa struttura pubblica? È un momento di socializzazione molto importante che veramente il San Giuseppe ha voluto che accadesse nella giornata della Pentecoste. È fondamentale perché consente all'Associazione San Giuseppe che è un'associazione viva, presente, di poter gestire questi due campi di bocce fortemente voluti dall'amministrazione Longanella. Io come Vice Sindaco ho fatto la mia modesta parte perché Fimiani merita un punto di aggregazione. Come tutte le frazioni merita. Come tutte le frazioni. Difatti, questo lo voglio dire ai mass media, è il quarantesimo nastro che tagliamo in cinque anni. Ma qualcuno vi critica, soprattutto dall'opposizione, questa inaugurazione nell'imminenza del voto per le amministrative. Non è uno spot elettorale. Perché devo dire che questa sarà sede, questo centro sociale polivalente di tornata elettorale per la prima volta. Sarà ubicata la sezione numero 9 e lei deve sapere, come i cittadini debbono sapere, che il signor prefetto nella giornata di martedì vorrà essere dotto dell'omologazione di questi locali. Perché l'amministrazione Longanella ha prodotto a Lanzara una ristrutturazione della scuola elementare di via Pietro Ferrentino, dove c'è in corso un lavoro per 1.800.000 euro. È evidente che nella scuola di Lanzara, essendoci questa ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della palestra elementare, non si può vuotare. Quindi il sindaco Longanella ha ritenuto opportuno che questa struttura potesse essere sede elettorale per mille cittadini di Fimiani e quindi i tempi sono stati contenutissimi e i tempi sono stati velocissimi. Ma un grazie va dato alla ditta Abe Iorio Ciro, che veramente ha lavorato anche stamattina alle 6, all'architetto direttore dei lavori, Cimilo Alfonso. Mi diceva prima dell'ex assessore Carlo Spinelli. No, l'assessore attuale Carlo Spinelli, il quale sta curando tutte le opere pubbliche del nostro comune e ha dato, come dice la norma regionale, un'accelerazione molto molto efficace, facendo sì che il comune è un cantiere inaugurazione. D'altro canto il dottore Spinelli è figlio d'arte, essendo il figlio dell'ex sindaco. Esatto, esatto. Non mi dimentica. Alla esperienza e io ero legatissimo alla memoria del papà all'avvocato Alfonso, di cui sono stato onorato di essere il suo capogruppo consigliare in Consiglio Comunale e poi io sindaco, l'avvocato Spinelli mi ha supportato come capogruppo. È un grazie deferente. Grazie. Carlo Spinelli, che quantunque non candidato, è voluto essere presente stamattina all'inaugurazione di questa struttura. Assessore, vogliamo percorrere, seppur brevemente, l'excursus per cui siete arrivati alla vigilia del voto, all'inaugurazione di questa struttura. L'opposizione vi accusa di aver fatto uno spot elettorale. Noi abbiamo lavorato nell'interesse del Paese, senza porci obiettivi legati alla scadenza della Consigliatura. I tempi per progettare un'opera, finanziarla e realizzarla dovrebbero essere noti a tutti, dovrebbero essere sicuramente noti a chi amministra. E sono tempi, come purtroppo verifichiamo, sempre abbastanza lunghi. Per cui il nostro impegno è stato quotidiano per raggiungere questi risultati in tempo utile, innanzitutto per consegnarli alla cittadinanza prima del termine di questa Consigliatura. Ed è motivo di soddisfazione il fatto di esserci riusciti. Infatti negli ultimi mesi siamo riusciti a completare sia la variante alla statale 266, abbiamo consegnato al Paese, alla cittadinanza, a tutti gli sportivi, uno splendido impianto sportivo, abbiamo consegnato la scuola di Aiello, abbiamo iniziato dei lavori importanti di ristrutturazione alla scuola elementare di Fimiani e oggi, dulcis in fundo, inauguriamo questo centro polivalente per anziani che abbiamo completato mediante la realizzazione di due campi di bocce. Per cui credo che sia una polemica inopportuna e sterile. È importante invece realizzare le opere per il Paese perché c'è carenza sia di infrastrutture sia di impiantistica sportiva e noi ci siamo impegnati per colmare queste lacune e speriamo di poter continuare per i prossimi cinque anni, voto permettendo, in questa direzione. Chiudiamo, come giusto sia, con il sindaco Franco Longanella. Questa è una delle tante opere avviate dall'amministrazione comunale, da lei presieduta, unitamente all'assessore dei lavori pubblici Carlo Spinelli. L'Avvocato Carlo Spinelli è l'esempio della grandezza della nostra squadra. Lui è assessore efficientissimo, che ha portato a termine tanti lavori, con impegno, con costanza e con competenza. Adesso non è candidato, ha lasciato posto agli altri per permettere specialmente alle donne di far parte di questa squadra di persone libere, di persone coerenti e impegnate al massimo per portare Castel San Giorgio a livelli sempre più alti. Quello dei lavori pubblici è un settore, ma non è solo, che noi curiamo. Abbiamo curato in maniera eccezionale, ma è un settore molto importante perché con le opere pubbliche c'è anche lavoro, con le opere pubbliche... Certo, ricordiamo che l'impresa che ha realizzato quest'opera è di Castel San Giorgio. Di Castel San Giorgio, con il lavoro si realizzano opere belle come queste, fruibili da tutti i cittadini. E non fa niente se questo arriva alla vigilia dell'elezione? Noi continueremo pure dopo le elezioni, arrivate altre opere. Eh sì, ci stanno prossime tutte le strade che vicino alla centro, alla piazza centrale di Castel San Giorgio, piazza della Concordia, che sono già appaltabili, quindi sono già finanziate. Abbiamo altri rotatori, abbiamo tanti altri lavori che non siamo riusciti a portare a termine, ad appaltare, ma che sono prossime ad essere appaltate. Abbiamo iniziato proprio dal 2010 a lavorare e adesso continuiamo con tante opere. C'è anche quelle che capitano al finito. Ecco, proprio in quest'ottica martedì ha inaugurato un'altra struttura a Santa Croce, anche grazie all'impegno della vostra candidata locale Paola Lanzara. Ma non solo, anche all'impegno di un'associazione eccezionale che ha messo anche un contributo, ha portato un contributo economico oltre che al lavoro, quindi sarà un'altra bella opera perché soddisfa e recupera quella che è una carenza a Castel San Giorgio di spazi di verde attrezzato, sicuro per anziani e per bambini, con le mamme che potranno regarsi lì, con qualche giostrina. E insomma, è una bella oasi non solo per gli abitanti di Santa Croce, ma per tutti gli abitanti di Castel San Giorgio. Sindaco, una battuta, seppure breve, su questa campagna elettorale dove, come sempre, non mancano le polemiche, i veleni, le accuse, soprattutto rivolte alla sua persona, in modo particolare dal consigliere comunale Manuel Capuano, durissimo nei suoi confronti. Lo ricordiamo che in passato l'esponente di Forza Italia era in amministrazione, era uno degli esponenti di maggioranza, ora è candidato capolista della litsa avversa. Ecco, come replica queste critiche ferocissime del consigliere Manuel Capuano? Noi abbiamo il diritto alla difesa, replichiamo pure, ma per l'avvocato Manuel Capuano non c'è niente da dire. Lui voleva correre troppo, voleva essere candidato a sindaco. Ma come è che succede? La squadra in cui si trovava, non c'era spazio per correre così velocemente e hanno voluto che continuassimo con me alla testa questa altra consigliatura per completare le opere, un'azione forte, avrà tempo per potersi candidare. Fatto sta che purtroppo è andato altrove per fare il candidato sindaco, non ci è riuscito. Gli auguriamo le migliori fortuna, ma non a danno della nostra lista. E invece di Andrini Adonato cosa dice? E' un'ombra che veleggia su quella lista, ha partecipato alla sua Costituzione, dà consigli, è presente e cose. E' bella sua esperienza. Ma non preverrà e non ritornerà. E invece del suo competitor, ossia il collega Pasquale San Martino, cosa ne pensa? Una persona per bene che però avrà bisogno di atti cinque anni di opposizione per dimostrare che bisogna lavorare quanto si è investiti da una responsabilità, dall'opinione pubblica e dai votanti, bisogna essere presenti. Non l'ha fatto per il passato, lo farà per il futuro, stando a banca dell'opposizione. Sicuramente si attrezzerà però magari per candidarsi la vota. Ma lei forse con un pizzico di presunzione, già è convinto di aver vinto nelle prossime amministrative? Noi riteniamo di meritare la vittoria. Perché? Niente più. Perché meritare la vittoria? Perché abbiamo lavorato molto, con la benificazione, abbiamo portato il Castello San Giorgio all'esempio di tutte le comunità provinciali e anche oltre, specialmente con i rifiuti, con l'attenzione ai più deboli, con l'attenzione alla scuola, alla cultura, alle opere pubbliche e così via. pensiamo con la sistemazione dei conti pubblici, con tante cose che abbiamo fatto, con l'abricazione, lavorando giorno per giorno, diverse ore al giorno, come impiegati. Non solo io, ma anche altri assessori e consiglieri. Quindi riteniamo di avere le carte in regolo per ripresentarci non solo, ma per vincere come sono convinto che sarà. Grazie. Invoca Luca. Grazie.